Che bello, sta apprezzando. Sono le 11.00. Eccola. In a crevice, among some large rocks, by the Atlantic Ocean in Reykjavik. Non si apre. Ghiaccia. No, aspetta. Eccola. Eccola. Grande. Eccola. Top. Che logbook. Che top. 25, 12, 17. La cache di Natale. La cache di Natale. La cache di Natale. Ed è anche la nostra cache più a nord. Ed... Com'è che si dice? The Northern Most. The Northern Most. Ok. Stop.